Ciao a tutti e bentornati, nuovo video della collezione delle Ferrari, delle grandi Ferrari di F1 della Centauria, questa è una delle ultime, roba di luglio 2023, la CK di Villeneuve dell'81, vettura importantissima, importantissima, oddio no, non importantissima, vettura molto particolare per me, perché sono un fan di Villeneuve, e quindi questa è stata la macchina prima della macchina maledetta, lui poi dopo questa qui dell'81, è la 126 C2, che è quella dell'incidente di Zolder, quindi è più bella come macchina la C2, secondo me, però è purtroppo collegata alla morte del grande Gilles. Il modello è fatto molto bene, siamo sempre davanti, io direi a una Ixo, non le apro, ma sotto sicuramente c'è il timbro della Ixo, che fa tutte le Formula 1 di questo periodo qua, quindi queste qua, le Brabham, le Lotus, le Tyrrell, tutte le ha fatte di questo periodo qua, e sono tutte quelle che stanno uscendo nella serie delle grandi Formula 1 di Centauria. Sono interessanti perché questa serie ha già la teca rigida, il che non vi obbliga a cercare per mari e per monti le teche solide da mettere sopra all'altra serie che fanno delle leggendarie Formula 1, che invece hanno il blister ancora in plastica. La differenza sono esattamente i 5 euro del prezzo di copertina, queste vanno a 30, le altre vanno a 25. Poi c'è un prezzo all'inglese che io non capisco, vabbè, cazzi loro, 24,99 contro 29,99, suona diverso che 30 euro. Vabbè, comunque costa 30 euro. Fatta molto bene, voglio dire, per il livello che ha, come dico sempre, a questi prezzi non è contestabile nulla. La macchina non ha lo sponsor Michelin sulle gomme, che mi pare di aver letto sia anche una cosa corretta, perché questa qui non in tutte le gare ha avuto lo sponsor Michelin sulla gomma. Quello che magari può dare un po' fastidio è che, essendo comunque un giocattolo, c'è la brutta linea, vedete la linea di stampo sulle gomme, quella linea a metà, per fare un lavoro fatto bene. E ripeto, come dico io, io personalmente non lo faccio perché secondo me non ha senso toccare questi modelli qui, questi sono begli oggettini da mettere lì, punto. Il senso è il modellino da edicola. Non è una roba modellistica, non è una cosa da collezione, è un giocattolo da edicola. Sarebbe bello, però ripeto, magari staccarla dalla base, dare una levigata con la carta vetrata alle ruote e renderle un pochettino più vissuti. Le ruote sono sempre nei modelli di Formula 1 un punto critico, quindi io quando faccio Formula 1 tendo a mettere scritte, tag, adesivi, targhette, i pesi di bilanciamento, le valvole. C'è una ruota a 50 pezzi nei modelli che faccio io in queste qua, ce ne sono un po' meno, ma è comprensibile, ripeto, visto il livello del prezzo di copertina, perché qui è tutto un discorso collegato a quanto si paga e che cosa si ottiene. Quindi è uno dei casi migliori di minima spesa e massima resa, oltretutto su una Ferrari. Ed è stato anche rognoso averla, perché io queste qua le chiedo costantemente, quando vedo le uscite che mi interessano, le chiedo costantemente al mio edicolante, oppure le trovo direttamente da lui, però in questo caso della Ferrari di Villeneuve, come è successo per le altre Ferrari di Villeneuve, quindi per la T4 e per l'altra di Lauda, cos'erano le 312 di Lauda, quando sono Ferrari particolari diventano introvabili da tutte le parti. Ora, parlando con l'edicolante, che non sempre, povero Cristo, si può pretendere che abbia una conoscenza di questi veicoli qua, loro tante volte ti dicono che le prendono e non le prendono un po', perché prendono un sacco di spazio dentro all'edicola. Sono chioschi, quindi, anche se sono negozietti, si fa fatica a tenere l'oggettone messo lì, poi la gente ci prende dentro, il calcio, il bambino, quello che la tocca, viene fuori un casino, e quindi tocca chiedergliele. Però, quando è venuta fuori questa Ferrari, ne avevo addirittura ordinate tre, ne volevo comprare tre, sono 100 euro di modelli, e quindi sono soldini su queste cose qua, 90 euro di modelli. Rapportato all'incasso sul singolo gadget di un'edicola, e le edicole lavorano sui volumi di giornali, quindi figuratevi, figuratevi quanto è più basso il guadagno sulle altre cose che normalmente un'edicola vende. Però, di tre ordinate, è riuscito a darmi una malapena, una, una, una col blister sano, perché anche lì tante volte magari arrivano, è pure il blister rotto, quindi quella c'è, a me era capitato su un paio di Porsche, in scala piccola, tra l'altro, di trovarla con il blister rotto, quindi se la vuoi, lì, è proprio una realtà diversa da quella di quando avevo il negozio di modellismo, quando io avevo il negozio, se c'era un articolo rotto, il cliente veniva, rompeva i coglioni, eh, ma il blister rotto non te la compro, dopo ero io come negoziante che dovevo tornare indietro, dove me l'avevano fatturata, farmi fare le note di accredito, e sperare di averla cambiata. Invece qui il gioco è completamente diverso, perché quella c'è, se l'edicolante non gliene frega un cazzo, lui la mette per terra, la vuoi, uno la prende a carcere, la spacca a metà, se tu la vuoi bene, per l'edicolante il problema non si pone, perché lui la può rimandare indietro, gli ridano esattamente i soldi, non paga un cazzo, e tu non hai il modello, quindi, tante volte il gioco è un pochettino differente rispetto a quando le vendevo io, queste cose qui. Però, ripeto, ci ho detto, eh, tornando al modello, cosa dire, se siete riusciti ad averla, questa è una delle, delle più belle che abbiamo fatto, una delle più iconiche, secondo me, delle serie delle, delle Ferrari, ecco. anche una di quelle fatte meglio di quelle che ho visto, perciò è assolutamente imperdibile. Attenzione che queste sono già, le trovate già online, adesso stanno cominciando 35-40 euro, che è ancora tutto sommato un prezzo abbordabile, le compro anch'io a quei prezzi lì quando non le trovo in edicola, però alcune tendono ad andare a 150-200 euro, quindi a seconda del modello che andate a cercare, attenzione, quindi perché questa qui, quelle di Alboreto, quelle di Lauda, sono tutti modelli particolari e molto molto da collezione. Questo è quanto, alla prossima.